Bergamo Sposi La sua dodicesima edizione Bergamo Sposi punterà su un'inaugurazione originale. Il tradizionale taglio del nastro sarà infatti sostituito con un più romantico taglio della torta. Tra i settori merceologici la parte del leone la fanno i rappresentanti della ricezione. In crescita anche foto, video e multimedialità, bomboniere, lista nozze e partecipazioni e naturalmente abiti da sposa e da cerimonia. Non mancheranno arredi, fedi e gioielli, fiori, agenzie di viaggi e wedding planner. Quest'anno spicca la presenza di due ristoranti bergamaschi stellati Michelin, il Roof Garden e da Vittorio Residenza Cantalupa, più molte altre prestigiose realtà provenienti da fuori provincia.